Non è un pesce d'aprile, attenzione non è un pesce d'aprile, ben ritrovati, buon primo aprile, buon mese a tutti, non è un pesce d'aprile, quindi allacciatevi le cinture e si parte insieme. Una buona giornata da Milanello, la casa del Milan dei Milanisti su YouTube, vi ricordo come sempre se non lo avete ancora fatto di iscrivervi, un grazie a tutti i nostri iscritti storici, ai nuovi, a quelli che stanno per arrivare. Mi raccomando cliccate qui, attivate la campanella, un grazie anche a chi commenta, lascia il like e partecipa attivamente alla nostra community. Vi ricordo anche di scaricare gratuitamente l'hub di OneFootball, a maggiore giorni visto che ci avviciniamo alla partita del Milan, potete vedere poi gli highlights gratuitamente, statistic, live, notizie di calcio mercato esclusive ed è personalizzabile anche soltanto rendendo la tutta rossonera con notizie di Milan a seconda appunto della nostra squadra del cuore, cioè il Milan. È gratuita, è sponsor del Milan, si avvicina anche la partita e quindi vi consiglio di scaricarla, vi metto qui sotto il link. Allora ragazzi, ripeto, non è un pesce d'aprile, è una cosa molto seria, molto molto seria ed è una notizia molto molto positiva. Voglio però introdurre il video con un'altra cosa, che non è un pesce d'aprile. Ve lo dico, poi qualcuno oggi, non faccio nomi, appena sveglio telefonino mi è arrivato un messaggio, ve lo condivido dai. Mi è arrivato un messaggio che ho scritto, si è rifatto male men, intanto facendo gli scongiuri, si è rifatto male men al polpaccio, al solito polpaccio. Non vi dico che cosa mi ha colpito qui, davvero mi sono visto davanti tutta la stagione, tutta la vita, tutta la stagione e ho pensato no. E poi se appena sveglio non calcolavo che era il primo aprile, mi ha preso in castagna e gli tirerò le orecchie pubblicamente una volta. No, no, sta bene, fortunatamente quello era un pesce d'aprile. Non è un pesce d'aprile, mi ha fatto molto sorridere, poi vediamo alla notiziona, invece sorridere per non dire altro, sì ho sorriso. Frey, l'avete sentito? Ex portiere tra le altre dell'Inter. Al quale mi rega un ricordo bellissimo, perché quando c'è Inter Milan 0-6 io sono allo stadio, con tre amici interisti, prendiamo in macchina 3-1, io ero il Milanista, e capisci che poi torni, c'è 40 minuti di tragitto, puoi essere o l'uomo più felice del mondo, oppure essere preso in giro per 40 minuti, poi il giorno dopo ancora a scuola, facevo le superiori, e invece la partita alla grande. Io sono al primo anello sotto la curva dell'Inter, perché i biglietti erano lì. Tra l'altro prima fila dietro la porta. Primo gol, come un pazzo, la Pippo Inzaghi vado davanti, sono l'unico, mi guardo in giro, mi guardano male. Secondo gol, mi alzo, esulto, sto sul mio posto, ho visto già certe cose, al terzo gol ho dovuto contenermi, al quarto, al quinto, al sesto dovevo stare attento perché volava giù di tutto, aste, pacchetti di patatine, quelli duri, senza fare pubblicità, striscioni che bruciavano, però è stata una serata pazzesca. Posso dire io c'ero e io ero lì vicino a Frey. Ero lì vicino a Frey. Frey che ha detto? Ha sminuito un po' la parata di Mignan, che per me, ripeto, è pazzesca, ma non soltanto per me. L'ho rivista anche da un'altra angolazione, magari pubblicherò su Instagram lo scatto che mi ha inviato uno di voi, che è ancora più fenomenale, e dice non so se è il numero uno al mondo, sicuramente ha compiuto una bella parata contro l'Irlanda, però io sono riuscito a farne alcune anche più belle ed appariscenti. È difficile trovare un portiere che esca fuori dalle schemi nel campionato italiano, quando giocavo io c'erano Peruzzi, Tolde, Buffon, tradotto, sì è una parata, ma io ne ho fatte molte più belle. Sinceramente, parate così belle non ne ricordo. Fatte in generale, è una delle parate più belle, ricordo quella di Buffon con noi contro a Manchester, quella che ha Buffon sempre su Zidane colpo di testa mondiale, alcune dida pazzesche, però Frey non lo metto in questi, anche perché aveva poi una fisicità, che è una cosa del genere, manco ci arrivava neanche a 20 centimetri dalla palla. Vediamo, è curioso che sta girando un po' come meme, io facevo di quelle parate, poi vedi il tabellino di Inter Milan 06 e io c'ero, e se ci penso ragazzi, ah che bello, che bello, che bello, così volevo condividere con voi. Ma veniamo, ripeto, avete lasciato le cinture di sicurezza, bene, qui siamo a una notizia importante, siamo a livello di non ufficialità ovviamente, altrimenti sarei qui a fare anch'io i salti come il nostro magico Magic Mignon, Mike Mignon, però abbiamo, come posso definire, sì, notizie comunque autorevoli, indiscrezioni, spifferi, cose che sono filtrate e dall'entourage del giocatore e di fatto per vi attraverse anche dalla C.Milan e tutte convergono in una direzione. Vi avevo detto l'altro ieri che c'era questa nuova possibilità di un rinnovo con Raffalea, o questa nuova proposta, con un contratto più breve rispetto alla scadenza 2027. Si ragionava sul 2025, quindi un anno in più di scadenza, al massimo 2026. Nelle ultime ore abbiamo raccolto informazioni molto importanti su questo fronte, per cui in questo momento, usiamo il condizionale perché comunque ci siamo scottati più volte, pare, ma dovrebbe essere così, perché non credo che né da una parte né dall'altra abbiano interesse a far filtrare qualcosa che non corrisponda al vero, pare in questo momento che Raffaleao sia vicino al rinnovo del contratto. Pare che in questo momento la proposta, l'ultima proposta del Milan, sia vicina ad essere accettata dal giocatore portoghese. Pare che si sia trovata la quadra e che quindi un rinnovo che sembrava a un certo punto complicatissimo, in questo momento torna ad essere invece probabile o addirittura molto probabile. Nei giorni scorsi poi Raffa ha chiamato Soboslai al Milan e qualcuno ci ha visto la volontà di voler restare, però lui può restare anche il prossimo anno senza rinnovo. Detto questo, ovviamente ci vuole prudenza, è una trattativa, perché non si è ancora conclusa, ricca di colpi di scena, di sali-scendi, di alti-bassi, di estrema fiducia, poi estremo pessimismo. Anche se devo dire che il Milan dal Milan, da Via Aldorossi, dai piani alti, il pessimismo vero e proprio non è mai uscito. C'è sempre stata una volontà e un cauto-ottimismo. Ecco, sembra che in questo preciso momento storico, inizio aprile, il Milan e Raffa Leao non siano mai stati così vicini a un rinnovo del contratto. Personalmente apprendo questo con stupore, entusiasmo e speranza che si possa tradurre in una firma a breve. Perenne motivi. Il primo perché credo che Leao sia un grande giocatore e che quello che ci ha fatto vedere lo scorso anno, tra aprile e maggio, dimostri che possa diventare un top player. Quest'anno, nel 2023, sta facendo male, 11 partite senza segnare, ma credo che in questo sia finito un po' anche. A un certo punto, oltre che stanchezza per il mondiale, o comunque un percorso non solito, quello di andare a fare un mondiale, al caldo puoi tornare, eccetera, eccetera. Un discorso magari anche tattico, perché si è passati a giocare diversamente e domani Milan tornerà a giocare come piace a lui, con lui posizionato sulla mattonella, sull'esterno di sinistra. Ma poi c'è finito anche un rinnovo che in quel momento sembrava molto vicino e poi invece si è ingarbugliato. Quindi credo che un Leao con il rinnovo possa avere molta più facilità e molte meno difficoltà a tornare a fare quello di cui è capace. Secondo motivo per cui sarei molto felice è perché potremmo vivere un'estate e dei mesi sereni senza l'assillo del caspita se non rinnova in quest'estate mi va via parametro zero. Allunghiamo i tempi. Poi qualcuno ha visto già commentato l'altro giorno nel caso non fosse un rinnovo fino al 2027 ma 2025 che roba è allungare i tempi. Ragazzi, non è più il Milan di Berlusconi che comandava anche sul mercato. È un Milan che deve fare i conti con i conti e con le difficoltà anche sul progetto stadio e con lo strapotere stra 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 potere economico della Premier League. Per questo secondo me bisogna essere umili non fare gli schizzinosi se arriviamo a un contratto anche fino al 2025 per me è cosa buona o giusta. Ma è un'operazione che secondo me sarebbe anche un'ottima operazione non facile vedendo cosa succede anche altrove vedete Skriniar ultimamente. Poi vediamo se la clausola viene confermata se si abbassa in ogni caso la cosa importante essendo arrivati ad aprile 2023 è non perdere le AU a zero. Se si riesce a rinnovare tenerlo anche il prossimo anno meglio ancora poi se tu hai rinnovo hai anche più potere economico potresti anche venderlo in estate nel caso ma lì c'è un parametro che è la clausola che sicuramente poi se lo vendi in estate non lo vendi per 70 ma a cifre superiori perché tu hai la possibilità e non hai più le spalle al muro questo è molto importante quindi ovviamente piedi per terra prudenza per lo storico però sembra che in questo momento le parti siano molto vicine e che addirittura una fumata bianca possa arrivare già in pochi giorni se così fosse e se fosse una tempistica immediata lasciatevelo dire sarei anche galvanizzato per il discorso Champions League perché credo che le AU sia un profilo molto umorale ho sempre detto bisogna togliergli le nuvole dalla testa no? se gli togliamo un po' di nuvole e se arriviamo a questo rinnovo lui si stabilizza trova il suo equilibrio secondo me scende in campo in Champions League contro Napoli e fa il fenomeno questo o meno non è un secondo me è più una speranza però anche forse qualcosa di più di una speranza vediamo cosa succede l'ingaggio dovrebbe arrivare a 7 e mezzo bonus compresi un ingaggio importante credo che farbbe felici tutti Milan giocatore entourage famiglia e tanti tifosi rossoneri non tutti perché nel frattempo qualcuno visto nei commenti rispetto a tutti dice per me le AU non merita quei soldi però secondo me se allunghiamo comunque il contrato abbiamo più respiro in ogni caso non usciamo con le ossa rotte come potrebbe essere invece il rischio senza contratto di una scadenza e di un giocatore che potrebbe andare via a parametro 0 cosa da scongiurare se scongiuriamo quello tutto il resto comunque può andare o bene o molto bene ditemi che cosa ne pensate ragazzi vi invito a iscrivervi qui sul logo di Milannello se non avete ancora fatto vi aspettiamo numerosi grazie e benvenuti ai nuovi che si iscrivono qui lasciate un bel like commentate numerosi vi rimando al video di questa mattina in cui ho analizzato tre aspetti ci tengo lo possiate a vederlo ragazzi mi raccomando scaricate anche l'app di OneFootball qui sotto c'è il link un abbraccio forza Minologi più che mai domani ancora di più forza ragazzi grazie a tutti i nostri spettatori e poi grazie a tutti i nostri spettatori Grazie a tutti.